Buonasera. Buonasera. Oh, questo mi dicevo. Dicevo. Sì, dicevo. A me lo devo proporre un po' di da bene. Ma no, dai, si può. Dai, signoria, due vodka, grazie. Ah, no, non mi dovresti. Guarda, c'è la prima cosa che ci vuole, la prima cosa. Ma, signoria, dove sta l'accesso? Sempre in fondo a destra. Ah, grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, è la perché, insomma, si sa che l'eleganza e la sensibilità sono i miei punti forti, signorina. Ah, gran bella bottiglia quella. Ti è piaciuto? Iscriviti al canale e metti mi piace. Ciao!